Il treno regionale, 19-2-7-3, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 0 e 34, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19-2-9-1, di Trenitalia, proveniente da Pontremoli, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 06 e 19, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 34-0-9-0, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pontremoli, delle ore 06 e 26, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca, Bagnone. Il treno regionale, 19-2-5-6, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Parma, delle ore 06 e 26, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni, eccetto, Scorcetoli, Ostia Parmense, Ozzano Taro, Bico Fertile. Il treno regionale, 19-3-4-3, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 07 e 04, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale, 19-3-3-2, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 08 e 12, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cadi Boschetti, la Spezia Migliarina. Il treno regionale veloce, 32-61, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto a Genova Brignole, delle ore 09 e 35, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Centrale, Levanto, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure Portofino, Recco, Genova Nervi. Il treno regionale, 18-3-6-1, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 12 e 06, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 18-3-9-5, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 13 e 48, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sarzana, Carrara Avenza, Massa Centro, Forte dei Marmi Serravezza, Pietrasanca, Camaiore Lido Capezzano, Viareggio, Pisa San Rossore, Pisa Centrale, Ponte d'Era Casciana Terme, San Romano Montopoli Santa Croce, San Miniato Fucecchio, Empoli, Signa, Firenze Rifredi. Il treno regionale, 19-3-7-1, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Parma, delle ore 16 e 43, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Arcola. Il treno regionale, 19-2-5-7, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 8 e 31, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma alla Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19-2-5-8, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Parma, delle ore 8 e 22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Vico Fertile. Il treno regionale, 19-3-4-9, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 7 e 50, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sarzana, Carrara Avenza, Massa Centro, Via Reggio, Torre del Lago Puccini, Pisa San Rossore. Il treno regionale, 19-3-4-0, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 12 e 06, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19-3-6-0, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 16 e 57, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19-2-6-3, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 17 e 50, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19-3-0-1, di Trenitalia, proveniente da Pontremoli, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 18 e 22, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 19-2-6-5, di Trenitalia, proveniente da Parma, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 19 e 37, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma la Spezia Migliarina. Il treno regionale, 34-0-8-3, di Trenitalia, proveniente da Sestri Levante, è diretto a Pontremoli, delle ore 18 e 20, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Santo Stefano di Magra, Aula Lunigiana, Villa Franca, Bagnone. Allontanarsi dalla linea gialla.